3, 2, 1, go! Buongiorno ragazze e ragazzi Oggi siamo ritornati qui con un nuovissimo video La Japan Candy Box ci ha mandato un pacchetto Che ovviamente non è una box Cioè non è che voi trovate questa box sul sito Ma trovate i prodotti che troveremo noi qui dentro nel sito Perché la Japan Candy Box ci ha voluto fare questo regalo Per l'anno nuovo, per Natale E per tutte le collaborazioni che abbiamo fatto assieme Per ringraziarci E quindi tutto quello che troveremo in questa scatola Voi lo potete trovare singolarmente sul sito E magari qualcosina anche nelle box che fanno loro E quindi questo è il pacchetto quando comprate le cose singolarmente Cioè bianco e poi qui sopra c'è l'indirizzo Quindi non ve lo faccio vedere E quindi niente, apriamo Allora, appunto qui c'è il bigliettino che ci hanno scritto Ringraziamo appunto Esatto Apriamo? Vai, apri Non voglio Vai Mi ha scritto questa cosina gigante che sembra cioccolata Però non so neanche Vai, apri, apri Sobre Questa è la sola di appostazione Non so se è buonissima l'edora Buono lo so, lo sto incidando Facciamo a metà Oh, quanto è morbido No Giulia, facciamo a metà perché io questi non me li mando Vai Formaggio con zucchero Mmm, sano Quanto gli dai? No No dai No, dico una cosa Quanto gli dai? Oh, no, sette e mezzo Io sette e mezzo Vediamo Ok È uscita una cosa abbastanza casual E a moda No, non lo so cos'è Quindi ora lo apriamo e scopriamo Come puoi dirmi di no? Ok, il cioccolato Basta il cioccolato Così lo vuoi? Ah, no A te Ah, no Questo sono tipi giapponesi Ah, mi ha visto di mettere Cioè, padelline al formaggio Mmm Con cioccolato O di oltre Vabbè, io vado Buono Io vado Cioè, raga, io adoro Adoro 10 questo Io ho un 8 a mezzo Allora Cioè, tipo un biscottiere in bianco E sono fatti così Sono salati e dolce Non riesco a capire 10 No No 8 a mezzo Niente di Troppo Entudiasmante Allora Andiamo avanti E abbiamo questo qui È sempre tutto spezzettato sinceramente Però Bello Tu Anch'io 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 Dopo Cioccolato Ok Vediamo se No Ah, ok La stessa cosa di prima Credo Però In più Grande No 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 4 Sa di zucchero Zucchero Da un Da 5 No Da 3 A 10 3 Sì Sbaccato È schifo Anche io Ha 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 Troppo dolce Che schifo Poi Dove Avanti Va bene Vai Da cammina Raga Poi alla fine Ha un gusto Dove Questa qui Sì Un po' di dolce Facciamolo tutto Alla fine È dolce C'è un po' di Caramelo No Dai 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 Queste sono Preciantissime Queste già l'anno scorso Se le mandarono Sgancia Ma sono quelle Le che ho mandato A costumamento Tutto vuole Vabbè Dopo il mio mandatore Non te li dai Ho provato Queste le ho mandato 4 Aspettate Che ne ho un altro Un altro No Hai anche un altro Di questo Felice Le caramelle Dell'altra volta Sono buonissime Le adoriamo Queste sono Ultra mega buone Infatti se le trovate Sul sito Compratele C'è Sono buonissime C'è Vai Andiamo Vabbè Queste già le conosciamo Però le mandiamo Io gli ho già 10 10 Buonissime Cioccolato Ma che cos'è Questa cioccolata Vabbè Questo qui Che a me non piace No Non voglio mangiarlo Non voglio mangiarlo Uniamoci Che buon cioccolato Che buon cioccolato Io non ce la faccio A mangiare Troppo cioccolato Vabbè Io li puoi apri la bocca E' una mia tua Sì 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 Oh no Mamma E' una tua mamma Ti va bene Sì Oh mamma Ti prego No che schifo No Stati miele Non ti piace No 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 Stati miele Non lo metti in bocca No Non mi piace No Guarda Che porcine Che porcine Allora Dai E' un altro cioccolato Speriamo di no E' uscita anche un altro Perché l'ho stoccato E' prendo questo Alla fine Ah no E' diverso E dai Però E vabbè Dammi questo Giulia No non lo so Se è diverso Inseramente non l'ho Mangiamo Aspetta Madonna raga Non voglio che sia cioccolato Ti prego Non c'è Niente di salato In questa box Un altro dolce Ma che Cosa ho messo in bocca Sa di cacca Non so cos'è E' diverso Cioè non riesco a sapere Non posso mangiarlo No 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 Non lo metto in bocca Sì No Che schifo Ti mangiò No 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 Mi schifo No giù Io l'ho mangiato Quello L'ho mangiato Fammi vivere Fammi vivere Vai Vai Non mi piace Fammi vivere No Giulia No Io l'ho assaggiato Manda No Dai No Oddio sono Questo è uguale No ti prego Altro dolce Allora l'unica cosa che mi piace Perché è salata Missa con il dolce Però si sente molto il salato E questa E infatti Se la trovate Compratela E' buonissima E' buonissima E' questo E' questo No Non lo voglio mangiare Devi mangiarlo No perché tu non l'hai mangiato Ecco perché se è buono No lo voglio Ai problemi non mi interessa Io ne ho trovato queste E' la mia vita E' la mia vita E' buonissima E' buonissima E' buonissima Ne voglio una Ce ne sono tante Oh Oh E' buonissima E' buonissima E' buonissima E' buonissima Noi Allora Le cose che mi piace di più Questa Perché La conoscevo Mi piace un sacco Questa A proprio giù Che potrei che è un altro Ah 5 e 5 E' 5 E' 5 E' 5 No O è meno una stessa No Una mamma Giulia E allora l'altra Facciamo la mia vita No babbo Una babbo L'altra babbo Infatti Allora Quindi questo Quello che Giulia ha lanciato A mamma e babbo E' questo Per il resto Non mi piacciono Le cose No mi piace questo C'è mi piacciono Si possono mangiare Però sinceramente Passami E' buonissima E' buonissima Che dici E' buonissima E' buonissima Giulia Vabbè dai Allora 3 2 1 Go Quindi ragazzi Questo era il video Spero vi è piaciuto Tantissimo Iscrivetevi a Instagram Marghe Giulia Kawaii 3 Official Su Facebook Marghe Giulia Kawaii Real Sul secondo canale Maggi TV Sul musica Mi piacciono a Marghe Giulia Kawaii E sul secondo canale Marghe Giulia Kawaii Marghe Giulia Secondo canale Vi ricordo che io Marghe Sì Se vi è piaciuto Lasciate like O metà Al canale Sì 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 Sì